Da 15 anni che sono qua ho sempre lavorato. Lavoro di notte e vengo qua anche fuori a dare una mano ai clienti, volontieri. Però quando vedo gli altri che non fanno niente, sono tutti in regione. Poi quando sento dire italiani che sono un rassista, non è vero che sono un rassista, perché sono stufo. Cioè, a parte gli italiani, in cui in che persona, in cui in che paese, sarebbe fare uguale così. Capito? E bisogna lavorare, non c'è niente da fare. Se non vuoi lavorare, torna a casa dove sei venuto. Non c'è niente da fare. Cioè, non è che a me mi danno che cosa, io parlo così. No, perché a vederli così, cioè, che sono dell'Africa, io mi vergogno. Mi vergogno a vederli così. No, non è giusto. Non è assolutamente giusto. Uno, bisogna lavorare, bisogna fare come gli altri e bisogna rispettare le regole che ci sono di quei paesi. Punto. Io perché sono qua, la gente mi amano qua, cioè, non è perché cosa, perché, cioè, ho lavorato, ho sempre lavorato. Da poco che sono qua, 15 anni, però ho sempre lavorato. Ho dato, cioè, la mia disponibilità l'ho data a tutti. Qua, tutta la metro, qua, dirigenti, tutti mi conoscono. Ma chi arriva, lo sanno chi sono, perché il mio lavoro l'ho preso sempre su serio. Certo. Per quello. E quando vedi le tasse sulla tua busta paga? Eh, poi... È vero. Alla Sacra Famiglia ci sono, il pieno di là di nigeriani, li vedono con telefono da lux, li vedono tutti belli vestiti. Poi, a fine mesi, quelli che vanno a chiedere soldi da comune. Non lo so quanti sono, 40 euro, non lo so quanti sono. Però, a fine mesi, quando vedi le mie busta paga, c'è tassi regionali, comunali, e mi gira coglioni. Perché io lavoro, tu no. Eh, vattene a lavorare. E paga pure le tassi. Eh, mi sembra giusto, no? Eh, però, io non vado a lavorare, tu prendi i soldi mie perché... No. Non è corretto. Gli italiani sono razzisti? Ma non sono razzisti, anzi. Sono... Sono molto accoglienti, tanto che razzisti, perché quelli che hanno fatto, hanno fatto anche di più. Perché l'ultimo anno, se vada a vedere, gli immigrati, quelli che sono arrivati in Italia, sono tantissimi. Hanno battuto record in Europa. Cioè, non puoi dire... Io non posso dire ai italiani che sono razzisti perché io mi hanno ospitato bene, io mi trovo bene, io lavoro a regola, c'è una casa, c'è una famiglia. Perché? Perché ho sempre lavorato. Già. E quello che dice Salvini? Ma Salvini ha ragione. Ma non è che c'è a tutti il torto. E speriamo che va fino in fondo. Spero che nessuno li... Cioè, li ti rompi di fare il bel lavoro che sta facendo. Spero che va fino in fondo, anzi. Perché non ho la possibilità di incontrarlo, se no li incontravo io, guarda. Fai bene, vai a fare il tuo... Fai il tuo bene, fai il tuo lavoro, nessuno ti rompe. Vai avanti, Salvini. Grazie. Grazie a tutti.